Allora Presidente, prima di parlare di Troise, devo rifarle la domanda riguardo quello che ha detto anche in conferenza. C'è stato un aggiornamento del progetto, diciamo così, dopo un biegno comunque positivo. Cosa l'ha spinta a prendere questa decisione? Come ho detto prima, ci sono delle scelte che vanno fatte. Specialmente chi gestisce un club deve capire quando è il momento di cambiare e di fare questo per far sì che il club cresca sempre di più. Quindi come ho detto non c'è un momento, un motivo ben preciso. Ci sono delle scelte che si fanno, che si condividono. Infatti abbiamo avuto dei rapporti sia con Paolo Giovanni che Polendiano perfettamente in sintonia perché l'Arezzo ha scelto di fare diversamente. E adesso Presidente si continua ad andare avanti per alzare l'asticella, ce la può confermare? Assolutamente sì, non sarebbe nessun gusto pensare di vivacchiare. Io l'ho sempre detto, non sono il tipo che gli piace vivacchiare. Quindi sicuramente la nostra progettazione, il progetto e la progettazione per salire sempre di più. Poi come e quando, questo lo lasciamo ai tecnici che costruiscono le squadre. Adesso che è amministratore unico, che cosa cambia per lei da un punto di vista dell'impegno anche personale, Presidente? Cambia tanto perché prima avevo su posto qui Sabatino Selvaggio che poteva fare alcuni aspetti burocratici. Adesso li faccio in prima persona e questo significa che sarò molto più presente e quindi ci sarà sempre più Guglielmo all'interno dell'Arezzo. L'abbiamo chiesto una cosa che si chiedono molti tifosi, cioè il progetto stadio a che punto è? Se ci può fare una sintesi, un aggiornamento del percorso del progetto? Siamo a buon punto perché noi abbiamo il DOGFAP quasi pronto, lo presenteremo entro giugno, massimo i primi di luglio, dopodiché passa la mano al Comune. Il Comune in 60 giorni per regolamento dovrebbe darci l'autorizzazione e poi da lì con quell'autorizzazione che diventa di interesse pubblico si parte per la progettazione vera e propria dello stadio e per la realizzazione. Speriamo di avere entro l'anno la possibilità di cominciare a dire ok, scegliamo le aziende che dovranno costruirlo. Vi chiedo un'ultima cosa anche riguardo le altre strutture, alle caselle non so se ci sono delle novità anche riguardo il campo insintetico che è stato fatto ma ancora non è stato omologato credo, no Presidente? Se ci sono delle novità da questo punto di vista. So che in questi giorni stanno facendo la parte finale dell'omologazione, quindi avremo pure lì alle caselle i due campi a 11 belli che definiti e gli altri campi li stanno sistemando, quindi le caselle sta diventando sempre più il fiore all'occhiello del settore giovanile dell'Arezzo quindi sono convinto che anche lì aumenteremo i numeri dal punto di vista delle iscrizioni e dei nostri ragazzi. Il settore giovanile l'abbiamo messo in mano a Francesco Serrapica che è un professor di mia estrema fiducia e sta dimostrando che nella gestione sua nell'ultimo mese e mezzo l'ha preso letteralmente in mano sono convinto che riusciremo a fare meglio anche il settore giovanile.